Viviamo un momento storico segnato da sfide difficili, lo sappiamo. Il mondo è scosso dalla crisi provocata dalla pandemia del Covid-19 che mette in evidenza ancora di più un'altra sfida globale, la crisi socioambientale. Vorrei invitarvi a intraprendere insieme un viaggio, un viaggio di trasformazione e di azione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.